Ci sarà la riduzione delle attività produttive nella divisione aereo-strutture negli stabilimenti del Mezzogiorno, dove vengono assemblati gli aerei civili per Boeing, Airbus e ATR, a comunicarlo la stessa azienda, Leonardo S.P.A. La notizia non appare una novità per la FIOMO CGL, in quanto durante la fase emergenziale della pandemia più volte avevano palesato le criticità che si sarebbero verificate per il settore civile. La crisi del settore, oltre a coinvolgere gli stabilimenti di Leonardo, inciderà pesantemente sulle aziende di fornitura dell'indotto. Per Claudio Gonzato, coordinatore nazionale Leonardo per la FIOMO CGL, la ripartenza più volte chiesta dalle imprese non coincide con il ritorno alla normale attività lavorativa, ed anche per un settore che prima del Covid-19 aveva ordini e volumi per i prossimi dieci anni risente di una crisi industriale, che coinvolgerà per i prossimi anni l'intera filiera. Dopo gli annunci da parte di Leonardo per il mercato civile della produzione di aerei ed in attesa dei prossimi incontri sui restanti segmenti del settore civile, appare non più rinviabile l'apertura di un tavolo con il governo e le parti sociali per il settore dell'aerospazio. Un duro colpo per il territorio ionico, già martoriato dalla crisi industriale. Non vorremmo che quella, che sarebbe potuta essere una realtà di sviluppo ed un'alternativa sostenibile all'industria pesante, finisca per rivelarsi un complesso industriale privo di future prospettiva, commentano le RSU FIOM Grottaglie. Non solo Covid, lo stabilimento di Grottaglie, quello che più di tutti è all'interno del gruppo Leonardo, paga in termini di calo produttivo la crisi industriale, che coinvolgerà per i prossimi anni l'intera filiera, a causa del Covid-19. Questo perché Grottaglie, l'unico stabilimento del gruppo, a lavorare in monocommittenza per un unico cliente, dunque, ovvero Boeing. Inoltre, il segmento di velivolo per il quale lo stabilimento grottagliese lavora, un aereo di medio-lungo raggio, è il più colpito dalla crisi ed avrà dunque una ripresa più lenta. Unanime quindi la richiesta di risorse pubbliche, di investimenti privati nell'innovazione, ricerca e sviluppo, e soluzioni che garantiscano il mantenimento dell'eccellenza industriale presenti nel territorio, nel settore dell'aerospazio.